Hanno scelto con il loro legale il giudizio immediato e sono stati assolti dai giudici del Tribunale di Nocera Inferiore dall'accusa di lottizzazione abusiva e abuso d'ufficio. Gli ingegneri Pellegrino e Califano e l'architetto Giacquinto furono raggiunti da avvisi di garanzia emessi dalla Procura della Repubblica di Nocera, su richiesta del PM Guarino, nell'aprile del 2010, insieme ad altre 60 persone, a seguito di un'indagine del nucleo di polizia tributaria. Nel Mirino finirono le aree Pippe Pua del Comune di Pagani, quelle cioè dei piani di insediamenti produttivi e del piano urbanistico attuativo, che comprendevano una zona industriale ed una commerciale. Il blitz delle Fiamme Gialle, nell'aprile 2010, con operazione effettuata su richiesta della Corte dei Conti in merito alla realizzazione a Pagani delle suddette aree, è che portò a 22 sequestri preventivi di aziende, 3 interdizioni dei pubblici uffici e con 64 persone indagate, ricostruire una contestata operazione di lottizzazione abusiva nelle aree Pippe da parte dell'amministrazione comunale guidata all'epoca dal sindaco Gambino. Il PM Caggiano aveva chiesto 2 anni e 6 mesi di reclusione per i tecnici comunali Gerardo Califano, Enrico Giacquinto e Giovanni Pellegrino, pene minori con multe per altri 11 soggetti, tra cui imprenditori di Pagani e non. Assolti perché il fatto non sussiste a difendere i tre, all'epoca dei fatti dipendenti del Comune di Pagani, ed altri 11 indagati, gli avvocati Michele Alfano e Alfonso Mutarelli. A distanza di 3 anni, quindi, gli ingegneri Pellegrino e Califano, l'architetto Giacquinto, ma anche il geometra Calabrese ed altri 10, tra tecnici e imprenditori, scegliendo la modalità del giudizio immediato, sono stati assolti da ogni accusa, ottenendo anche il dissequestro dei loro beni. Per gli altri indagati, che non hanno scelto il rito del giudizio immediato, il procedimento ordinario va avanti.